Il primo Maleficent uscito nel 2014 lasciò nella critica un senso di incompiuto. C'erano molti spunti interessanti, dal mostrare una storia classica col punto di vista dell'antagonista fino ad arrivare al percorso di rivalsa e vendetta. Tutti questi temi si persero nella resa complessiva risultando in un caotico prodotto finale. Non fu in grado di tirare al meglio le somme, ma riuscì a stabilire una base modestamente solida da cui generare un secondo capitolo, seguito inevitabile, visto l'incasso di oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Tristemente, quello che otteniamo è davvero più o meno lo stesso risultato. Un'occasione mancata. In Maleficent 2, Signora del Male, la storia riprende con Malefica, ritrovata villain e protettrice della magica Brughiera, nel suo ruolo di madrina della principessa Aurora. Si viene lanciati in azione proprio nella Brughiera, dove la vita di Aurora, che vive come la regina del popolo delle fate, viene sconvolta quando il principe Filippo le chiede di sposarla, scatenando una sequenza devastante di eventi. Il personaggio di Malefica è cucito su misura per Angelina Jolie. Il suo magnetismo, unito al modo in cui si fa strada tra l'estere una versione fatata di Batman e un'amorevole madre minacciosa, è il vero motivo per cui questi film funzionano col pubblico. Si adatta al personaggio e al suo ciclo infinito di costumi. È estremamente adatta al ruolo, con i suoi zigomi taglienti e lo sguardo che incenerisce. La scelta migliore in fase di casting, però, è stata quella di aggiungere Michelle Pfeiffer nei panni della regina di Ulsted. Ha messo in scena la bella ed elegante regina Ingrid, rendendola un perfetto villain il cui sorriso benevolo nasconde un piano ben strutturato. Tiene all'oscuro da questa trama suo figlio e il suo pacifico marito, King John, interpretando a pennello la figura di leader che non si fa scrupoli pur di perseguire un bene superiore. Proprio il rapporto in scena tra la Jolie e la Pfeiffer è uno degli aspetti migliori di tutta l'opera. Tra scambi di battute taglienti alternati a sguardi glaciali, riescono a rendere appassionante il loro scontro. Peccato solo che appaiano contemporaneamente solo due volte su schermo ed è forse il rammarico più grande. Invece di lasciare il pubblico libero di godersi il duello Jolie vs Pfeiffer, il film svolta improvvisamente e decide che è più importante mostrare le origini di Malefica e del suo popolo. Scelta che risulta semplicemente come una scusa per aggiungere al cast alcuni attori notevoli ed un'armata con cui Malefica può gettarsi in una battaglia sullo stile di Game of Thrones. La triste verità è che nonostante tutto questo potenziale attorale, Maleficent 2 è un po' debole ed esaurisce il suo potere narrativo a metà strada. Malefica non è affatto la signora del male, la maggior parte della malvagità è stata decostruita e questo ruolo di Villain lei viene chiaramente usurpato. Mentre scorre il film risulta sempre più sconnesso nelle varie parti che non si adattano tra loro. Ci sono sporadici tentativi di subdola autocoscienza. Questa non è una fiaba, la regina Ingrid avverte l'ingenua aurora, ma non abbastanza per far funzionare il film a un livello sofisticato per gli adulti. Ci sono tentativi di metafora. Le creature del popolo di Malefica sono state emarginate e scacciate dalla società, creano una debole connessione con il pregiudizio e l'odio presenti nella vita reale, ma l'idea è così debole che risulta non pertinente. Qualcosa che salta immediatamente all'occhio di Maleficent 2, signora del male, è il livello qualitativo al quale sono arrivati i dipartimenti di computer grafica della Disney. Il sequel fa ecovisivamente i precedenti film live action dello studio, ma gli effetti sono progrediti con passi da gigante. Il mondo in Technicolor delle fate è sconvolgente e divertente, sembra quasi reale, e il lavoro fatto sulle creature della brugliera è magistrale. Anche la resa della battaglia finale sembra uscita da uno degli ultimi film Marvel per imponenza ed immersione. Concludendo, con la sua attenzione focalizzata altrove, la storia non consente alcuna vera esplorazione significativa dei suddetti temi che finiscono per essere semplici ingredienti in un prodotto né carne né pesce. Il fatto che il film non li esplori ulteriormente è un peccato e Maleficent 2, signora del male, finisce per risultare un'opera appetibile e godibile per il pubblico, ma incompiuta come il suo predecessore.